Sono gli ultimi giorni per presentare le proposte per il bilancio partecipativo 2019, la scadenza è il 30 novembre, sul sito del Comune ci sono tutte le informazioni del caso. Il bilancio partecipativo sostanzialmente è un processo che inverte il processo decisionale, non è la Giunta e il Consiglio Comunale che decide come destinare parte delle risorse pubbliche, ma chiediamo ai cittadini quali sono secondo loro le priorità e gli interventi che devono essere fatti. Ci sarà questa raccolta delle idee, le idee vengono poi messe in votazione, la più votata o le più votate diventeranno un progetto che nel 2019 sarà realizzato dal Comune di Pinerolo e quindi non è l'amministrazione comunale che decide, ma sono i cittadini che ci dicono qual è l'opera che ritengono prioritaria per la città. Le idee possono essere proposte da tutti i cittadini residenti in Pinerolo che abbiano più di 16 anni. Come si può avanzare la propria proposta? Sul sito del Comune, alla pagina Democrazia Diretta e partecipazione, c'è il link a una scheda, è una scheda in PDF precompilata, si scarica questa scheda, si indicano il titolo dell'idea, che cos'è questa idea, una descrizione breve dell'idea, se si vuole anche una bozza grafica, un disegno per dire dove si vuole realizzare quest'opera. Ad esempio, voglio fare un parco giochi, dove lo voglio fare, perché lo voglio fare, quanto può costare? Consideriamo anche che deve esserci questo limite dei 35.000 euro massimi, IVA e spese tecniche escluse. In questa scheda devono essere inserite tutte le informazioni necessarie e poi depositate, portate in comune entro appunto il 30 novembre. Al 30 novembre noi sappiamo quante proposte sono arrivate. A quel punto cosa succede? Succede che le proposte finiscono in un documento di bilancio partecipativo, che sarà, diciamo così, un po' la scheda elettorale, che sintetizza tutte le proposte che sono arrivate al Comune. Nell'ultima settimana di gennaio ci saranno le votazioni, dove in Comune ci sarà un ufficio, presumibilmente l'Ufficio degli Affari Generali, dove si potrà andare dal lunedì al sabato a votare tutti i cittadini residenti del Comune di Pinerolo, anche qua che abbiano compiuto 16 anni, possono con la loro carta d'identità andare a votare una tra le diverse proposte che saranno arrivate. La proposta più votata finirà appunto nel piano delle opere pubbliche e sarà realizzata dal Comune nel 2019. Grazie.